Un fatto molto grave perché c'è una violazione della Costituzione e delle leggi, perché si interviene a modificare l'assetto costituzionale e legislativo sui poteri che sono in capo ai sindaci e ai consigli comunali in materia urbanistica e di riqualificazione urbana. E quindi la nomina del commissario già dato mandato sarà impugnata, ma quel che è ancora più grave è soprattutto alla luce delle motivazioni che mi sono state consegnate ieri del Consiglio di Stato che pur ritenendo che non ci fossero le ragioni di urgenza per emettere la mia ordinanza nel dicembre 2013 perché i fatti erano vecchi, l'avrebbero evidentemente dovuto fare altri sindaci e non hanno fatto. Punto per punto viene confermata la tesi del Comune di Napoli, cioè viene confermato che il concessionario ha inquinato e quindi per la prima volta nella storia del nostro Paese c'è un sindaco che ha ordinato a chi ha inquinato di pagare. Il Consiglio di Stato sottolinea che l'obbligo della bonifica, della rimozione della colmata e quindi del risarcimento debba ricadere su chi ha inquinato. Fin Tecna è stato. È accaduto qualcosa di molto grave perché dopo quello il Presidente del Consiglio ha firmato un atto il 14 agosto dove si impegnava a dare soldi per la bonifica che oggi il Consiglio di Stato conferma. Il Presidente del Consiglio ha omesso di fare un atto che doveva fare e che ha prodotto un danno molto grave e ha alterato la democrazia con un atto di violenza istituzionale senza precedenti andando a commissariare un pezzo di città di Napoli. Questa è una cosa inaccettabile che produrrà una reazione istituzionale adeguata che è quella ovviamente di impugnare la nomina del commissario e fare tutta una serie di atti e andare avanti con un'azione politica forte cioè che è quella che in democrazia si decide con i poteri ordinari cioè con il progetto che è stato presentato in giunta, approvato in Consiglio Comunale e con la città e da lì che si deve ripartire. Non si può espropriare una città, i suoi cittadini e gli organi eletti democraticamente dai poteri previsti dalla Costituzione Repubblicana e dalla legge. Sindaco, secondo lei perché nonostante ci sia stata anche un'opera di mediazione, di confronto con il governo, Renzi è andato avanti per la sua strada senza ascoltare le ragioni dell'amministrazione? La storia è molto chiara e con la decisione del Consiglio di Stato di ieri che ovviamente io vi consegnerò di qui a finita questa intervista io credo che ci troviamo di fronte a un fatto senza precedenti. Il sindaco con un'ordinanza ha tolto la maschera e ha indicato con precisione chi ha inquinato e lì abbiamo la Cementir e abbiamo Fintecna. Fintecna è Cassa Depositi e Prestiti e Cassa Depositi e Prestiti è lo Stato. Quell'ordinanza ha un valore enorme perché ordina chi ha inquinato di pagare e ordina di fare quello che si deve fare cioè rimuovere le ragioni dell'inquinamento. Su quello si è attivata la mediazione che dice lei, in che senso? Si è arrivata una firma di un atto istituzionale che tutti quanti ci ricordiamo a Città della Scienza il 14 agosto il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, il Presidente della Regione Stefano Caldoro e il Sindaco di Napoli firmarono un atto in cui ognuno si impegnava a fare determinate cose. Quell'atto è stato completamente disatteso ed invece evidentemente per far rientrare dalla finestra chi era uscito dalla porta si è fatto il commissariamento che guarda caso va nella direzione esattamente opposta ai poteri ordinari all'esigenza di chiarezza e all'esigenza di trasparenza perché dopo l'ordinanza del Sindaco dopo quella firma dell'atto col Presidente del Consiglio, dopo la decisione del Consiglio di Stato mi sembra che la vicenda è talmente chiara che non si può fare il gioco delle tre carte nello sblocca Italia è indicato con precisione che chi è stato messo fuori dalla porta in forme più o meno simili o diverse entra dalla finestra e questo è inaccettabile e siamo convinti perché ho parlato anche con l'avvocatura, abbiamo fatto tutti i passi amministrativi che questa è un'altra mossa sbagliata del Presidente del Consiglio che nel nominare un commissario sta facendo una violazione di legge e un abuso di potere clamoroso se il Presidente del Consiglio arriva con un abuso di potere a commissariare un pezzo di città non è una questione che riguarda Matteo Renzi e il Sindaco di Napoli o Matteo Renzi e un quartiere di Napoli riguarda tutta la città di Napoli, la Regione Campania ed il Paese perché di fronte a questi atti di arroganza istituzionale non si può rimanere insensibili quindi è chiaro che noi metteremo in campo tutte le iniziative politiche necessarie compresa nei prossimi giorni una nuova proposta che andrà a contrastare quest'ulteriore passo istituzionale che è stato messo in campo dal Presidente del Consiglio poi c'è un tema anche commissario mi par di capire che anche la scelta del commissario, una scelta che va esattamente nella direzione della saldatura dei poteri forti anche perché noi recentemente nei riguardi della posizione assunta dal commissario Anastasi in qualità di direttore generale dello spettacolo del Ministero dei Beni Culturali abbiamo espresso fortissimo dissenso per i tagli che lui ha esercitato nei confronti della cultura quindi è complessivamente un'operazione prepotente nei confronti della città di Napoli quindi da questo punto di vista non ci sono le ragioni in questo momento per incontrare nessuno qua ci troviamo di fronte a un abuso di potere che è stato messo in atto dal Presidente del Consiglio quindi le azioni che saranno messe in campo io le farò con le giuste caratteri di riservatezza una cosa sono le battaglie politiche che metteremo in campo pubblicamente quando sarà predisposto l'atto in modo da non anticipare nulla sarà reso pubblico alla stampa e alla città quello che vi posso dare con certezza che nei tempi tecnici necessari a predisporre l'atto la nomina del commissario sarà impugnato in tutte le sedi giudiziarie dopo la sentenza del Consiglio di Stato io credo che non saranno solo le sedi della giustizia amministrativa e della giustizia costituzionale Grazie 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 Grazie